attraversava la distesa d'asfalto dirigendosi verso la piccola entrata di servizio che dava su Larry's Avenue Extension. Sul finire di aprile il dottor Jamal si era trasferito nel Connecticut. Aveva gambe ancora a mirevolmente. Aveva gambe ancora a morire. Uffa! Dispiaciuto del tono brusco, per non dire maleducato, che non era riuscito a contenere. E che cazzo, mo' anche i fuochi d'artificio, porca troia! Giù al Sewing Circle hanno un filo di s... hanno un filo di s... non di meno, probabilmente avrebbero... ora la portiamo alla stazione... stazione! E gli sembrava di riconoscere una certa logica bizzarra nel trarne... e gli sembrava di riconoscere una certa logica bizzarra nel trarne... e gli sembrava di riconoscere una certa logica bizzarra nel trarne... Scallonisi! Lo informò McGovern, dopo aver mandato giù le ultime boc... molti, specialmente le radicali come la dottoressa Roberta Harper, amministratrice capo di Woman Care, ricorrono a Uffa... ricorrono a Uffa... Ogni volta che il telefono squillava, la luce si intere... e adesso dovevi accendere la macchina... Nell'Eriadol Imladris era... Imladris era... Im... Imladris... Ma non avrei mai ingannato Bob Pollard... Scallon... Gli bastava tener d'occhio le loro aure... In quel momento i bordi color limone dell'aura di Gretchen... si incubirono uniformandosi... E dai, escandiscile ste cazzo di parole! Ma a Derry sembrava che ci fosse la capacità di inventare sempre nuove vesio... Santi Dio, ma perché mai dovrei girare armato di kun... Che ti importa di ciò che qui si sbisbisbisBi... E all'indomani della visita di Dorrens, Ralph ci andò. Le parole scivolarono fuori dalla bocca, su un afflato che somigliava all'odore di pancetta fu... Ma perché non riesco a dirlo, porco zio? Gli effetti furono immediati e quanto di meglio avrebbe potuto sperare, faffanculo al cane. Gli unici scien... gli unici scien... gli unici scien... Faffanculo! Gli unici scien... scienziati... scienziati... gli unici scien... Ma porco puttano! Perché non riesco a dirlo, cazzo? Come se la donna seduta accanto a lui su quella panchina si fosse trasformata in una... Come se la donna seduta accanto a... FANCULO! Così malandati da non... così malandati da non apparire da... Alle 7.20, una Lincoln Town Car, fine anni 70, ma in perfetto stato di conversazione... Sì, di conversazione... Lei fissava Ralf con diffidenza e allarme... Come se... Qualche passo più avanti... avanti... Minca, ma questa cazzo di Sardegna che ne sta uscendo... Penserà che se l'ho scritto così e che... Penserà che se l'ho scritto così è stato solo un modo... Penserà che se l'ho scritto così è stato solo un modo... Vaffanculo, vaffanculo! Da qualche parte un grappolo di cannucce a vento... Tintinnavano in e sta usando... Sto dicendo... Sto dicendo... Le repliche erano altrettanti pegni che preservavano la forma del K... Esattamente come i raggi che si aprivano a ventaglio dal mozzo preservavano la... Sto dicendo...